Ragazzi benvenuti in questo secondo episodio della fiera delle moto a Verona Adesso vi lascerò gli altri 15 minuti che restavano di video Guardateli fino alla fine perché comunque è bello Alla fine farò anche le considerazioni sulla fiera che ho avuto E sul canale più avanti uscirà il video completo di 30 minuti Perciò buona visione BESTIA RAGA BESTIA RAGA BESTIA RAGA BESTIA RAGA BESTIA RAGA Ragazzi veramente bellissima sta moto Raga standata l'aria bellissima Bellissimo Raga veramente ottima la talaria bellissima ovviamente Poi fatta così come l'hanno fatta loro veramente è un top Cioè è comodissima comunque le sospensioni buone Top veramente Elettrica purtroppo Però bellissima veramente Padiglione 5 secondo me il migliore con Kawasaki e tutto il resto Veramente top Papino di moto Spero che non mi danno il copyright per se roba raga Non si metterò quando un copyright per steve Siamo andati a battere le sette come se fosse lo zaino da degli amici di un po' che hanno lo stem qua Perciò Adesso andiamo in giro e vediamo com'è la situa Cioè per esempio guardate qua c'è raga dai E' la moto della Big Bubble Cioè nel senso Veramente Non me l'aspettavo la moto della Big Bubble Penso che mi aspetta un inco tranne quello Adesso continuiamo a farci un giretto e poi vi dico Padiglione 9 Si va Ragazzi Scandaloso Che ne dici Michael? Che ne dici? Che ne dici? Goliardico Foccavoia Troppi soldi Troppi soldi Foccavoia Questa Foccavoia Tipo Tipo Cioè tipo Ricordati che vuoi Ci vuole un cittile Mestile Cioè Ti prendi uno scosso 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 Questa è la prima run tra Valentino Mamato e Marco Leni vediamo Valentino che prende già le distanze ora il primo cambio da parte di Marco Leni e la seconda punta anche con non so se ne credeva no applausi per questi piloti a tattia vera Marco Leni e Valentino rimane vicino cambio in direzione per i due si è lottata leggermente di nuovo il cambio per la fase finale si lanciano i due piloti si lanciano i due piloti e questo è una 30 coppia l'uno nell'altro bravissimi entrati Ok ragazzi benvenuti alla fine di questo video Allora diciamo che adesso vi dico quello che mi aspettavo e quello che è successo durante la fiera Allora quello che mi aspettavo, allora di grandezza mi aspettavo molto ma molto grande Mi aspettavo ed effettivamente è stato così, è stato per carità non è all'altezza dell'Ekma Però è grande comunque Ci sono una roba come tipo 7 padiglioni che comunque non è poco Cosa mi aspettavo? Tante moto, tante, tante e quelle ci sono Perciò fin qua tutti gli aspetti sono stati rispettati Cos'altro mi aspettavo? Allora Forse mi sarei aspettato un po' più di adrenalina, un po' più di gare e cose così Ma ci sta perché c'è stato l'incidente come vi ho raccontato prima Poi un'altra cosa che mi aspettavo è tanta, ma tanta, ma tanta figa Sopra le moto ovviamente Che ci sono tutte le modelle che insomma Quelle anche ci sono state e niente Perciò allora A parte qualche padiglione che era un po' rudimentale Cioè tipo l'1, il 2, il 3 e il 7 Che erano letteralmente dove si vendevano delle cose Tipo magliette, casche, accessori, insomma Quelli sono stati nati un po' più di lodenti Perché mi sarei aspettato più un solo padiglione Che vendeva robe come quelle C'erano anche tante cose come tipo stand che davano cibo Che non c'entravano nulla, non c'entravano Non avevano nulla che riguardava le moto Non aveva nulla che riguardava l'ambito della fiera Però vabbè Ci può stare Un'altra cosa Che mi aspettavo È la musica Mi aspettavo effettivamente un po' di musica Un po' di musica da biker Qualcosa di modificato Come abbiamo potuto vedere L'auto e il camion Che vabbè Dal video non rende Però musica sparata a palla Cioè tremava il pavimento Roba assurda raga Perciò niente Diciamo che la fiera mi è piaciuta comunque Perciò Non è stato sto gran fiasco Perciò concludiamo dicendo che come voto Come voto gli darei un Sette e mezzo Perché potevano fare di più Decisamente di più Però Cioè Va così e va bene E niente Perciò questo video Finisce qua Spero vi sia piaciuto E che siate rimasti fino alla fine E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao